Signor D'Aggio Cristo, oggi è lunedì 3 giugno, la Chiesa fa memoria di San Carlo Luang e compagni martiri. Il Signore ha saggiato gli eletti come oro nel cruciolo e li ha graditi come olocausto. Risplenderanno per sempre, perché grazie e misericordia sono poi i Suoi eletti. Nel nome del Padre e del Filo e dell'Ospito Santo, la grazia del Signore nostro a Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dell'Ospito Santo sia con tutti voi. Prechiamo. O Dio che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della Tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luang e dei Suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante e gloria del Tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te in unità all'Ospito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda letter di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazie e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, Signore nostro. La Sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di Colui che ci ha chiamati con la Sua potenza e gloria. Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per raggiungere la vostra fede, alla virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza, alla pietà, alla pietà, all'amore fraterno, all'amore fraterno, alla carità. Parola di Dio. Mio Dio, in Te confido. Chi abita al riparo dell'Altissimo. Passarà la notte all'ombra dell'Onipotente. Io dico al Signore, mio rifugio, mia fortezza, mio Dio in cui confido. Lo libererò perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Nell'angossia io sarò con Lui. Lo libererò e lo renderò glorioso. Lo sozierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza. Alleluia, alleluia. Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si mise a parlare comparabile ai capi dei sacerdoti, agli scribe e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, ma anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per l'ultimo dicendo, avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro, costui è l'erede. Su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, oh Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi per l'intercessione di San Carlo Luang e compagni martiri. Vive bene che a Dio Onipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.